Noi siamo i ragazzi di Super Spodaccio, una compagnia amatoriale nata dal gruppo Giovanni della Parocchia di Sant'Antonio di Ciccarella. Sabato 27 novembre abbiamo portato in scena il spettacolo Mamma Mia per promuovere i fondi per l'interazione di Oscar del PGM e portiamo questa sera un piccolo restato nel spettacolo e speriamo qui in piaccia. Buona stata. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.